Bentornati sul canale DenNumbo, continuiamo con sui code in due, nell'ultimo video abbiamo finito di reclutare tutte e 108 le serie del destino, ora dobbiamo parlare con Apple per proseguire la storia e dirigerci verso la fine del gioco, fondamentalmente non manca tanto. Ti sei deciso? Hai ragione, andiamo a Muse. Shoo. Sì, vale la pena di provare. Ryo sarà generale... Ryo sarà generale e Hauser suo luogotenente. Apple sarà stratega, con Klaus secondo al comando. Possiamo fare il contrario, puoi mettere Klaus stratega e Apple secondo al comando, ti prego. Con loro come base dovrebbe essere facile attaccare Muse. Il generale Kiba e Dio rimaniamo qui. Se questo posto cade, l'armata di Dunan non avrebbe dove andare. Apple, in ogni bugia c'è un nocciolo di verità, e viceversa. Ricordalo. Sì, Shoo. Per quanto ancora durerà questa... questa guerra? Ne sei stanco? Credo di sì, ma lo voglio seguire fino alla fine. Che tipo di risposta avrà da loro questo paese? Naturalmente. Ma è tutto quello che ho. Non ha senso quello che hai appena detto, Victor, però te la lascio passare perché la traduzione di Suicode in due è perfetta al cento per cento in tutto, tranne che in questa frase, quindi una tantum si può lasciar perdere. Ti prego, le dì, Teresa. Usa questo. Grazie. Penso che per questo intendesse questa stanza, però lasciamo perdere. Originariamente Greenhill non aveva quasi forze militari. Invece di combattere usavamo posti nascosti, come questo. Ma i paesani collaborano con noi per quanto possono. Dorio, ci vorrà del tempo per far riposare gli uomini e lavorare sulla nostra strategia. Dovresti riposare anche tu. Ora, passeggiamo un po'. L'ultima volta c'erano soldati di Highland dappertutto e ci sono posti che non ho potuto vedere. No, abbiamo visitato, ti assicuro, Nanami, tutto il visitabile. E chi se ne frega della formazione. Lasciatemi muovere, lasciatemi andare fuori. Non è possibile! È lei! Ryo, seguiamola, è lei! È lei quella che ha attaccato Ryo! In quella... Ryo, seguiamola, è lei quella che ti ha attaccato, gioco. Quella che ti ha attaccato. Non Ryo, seguiamola, è lei quella che ha attaccato Ryo. Cioè, io sono qui davanti a te, Nanami, quindi... Vabbè. Ah, quanto mi stanno... Sul cazzo queste cose in cui bisogna ritornare nello stesso posto due milioni di volte. Comunque, andiamo avanti, su. Eccolo. Gi-gi-gi-giui! Grazie, Lady Lucia. Ora potete tornare a casa. Allora, questa è una scena che vorrei, sinceramente, che voi teniate a mente in ottica di Suikoden 3 e di alcune speculazioni che io faccio riguardo a Suikoden 3. Perdonatemi, signore, ma vorrei restare per proteggervi. Spiacente. Joey, perché... perché sei qui? Nanami, Ryo, come amico, ho una richiesta. Lascia la guida dell'esercito Duna, ne scappa da qualche parte. Io, la stupidità di Joey, veramente non ha confini. Hai perso. Cioè, hai già perso. Abbiamo praticamente riconquistato tutto quello che aveva conquistato Luca Blight e non hai forze più da mettere sul serio. Hai perso. È inutile che vieni da me mentre stai perdendo a dirmi, per favore, vattene. Dovresti essere qui chiedendo un'alleanza, una resa, non, per favore, vattene. Io, io non voglio combatterti. Non posso. Perché? Non c'è alcun motivo perché tu sia il comando dell'esercito Duna, ne esattamente come non c'è nessun motivo per cui tu sia il comando di quello di Island. Joey, uno dei personaggi... Allora, la cosa bella di... Di Joey, che è un personaggio che la prima volta che è giocata su Ikoden 2 probabilmente sta simpatico. La seconda volta vi continua ancora a piacere. La terza, la quarta, la quinta, la sesta, la settima volta capite che questo gioco si basa su un solo fondamento. Ovvero che Joey ha dei complessi di inferiorità pazzeschi rispetto a Ryu e tutto quello che lui fa non è per la pace, non è per Island, non è per lo Stato, eccetera, eccetera. Ma è soltanto per riuscire alla fine a poter dire che lui era superiore a Ryu. Questo è il fondamento su cui si basa tutto quanto quello che fa Joey in questo gioco. Che non si capisce magari la prima o la seconda volta che è giocata su Ikoden 2, ma dopo che ha attraversato questo gioco per più volte diventa chiaro in una maniera che voi non avete idea. Ci sono! Ho trovato! Joey può lasciare Island! No! Basta che Joey e Ryu uniscano le loro forze, spieghino tutto quello che ha fatto Luca Blight prima, facciano la pace tra lei e creino un'unica nazione... Vabbè, facciamo perdere. Non posso farlo. Capisco, è così. Come non posso rinunciare io, nemmeno tu lo puoi fare. È passato troppo tempo. Nessuno dei due può ritornare alle cose come erano prima. Ehi, ehi Joey, tu sei il re di Island, no? Allora puoi fermare la guerra e portare via le tue truppe da Muse, così questo finirà, giusto? Così questo si risolverà. Quello... non funzionerà, Nanami. Perché? Perché? Wah, 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 wah. Ok, Nanami. Portatela da un dottore. Quando abbiamo queste rune sulle mani siamo destinati a combatterci. Ma anche se quello è il nostro destino, mi piace pensare che entrambi abbiamo guadagnato qualcosa da questo. Io amo sinceramente come questo gioco fa di tutto, fa veramente di tutto per far pensare che sia il destino che li obbliga a combattere uno contro l'altro quando in realtà è tutta pura e semplice stupidità da parte di Joey dall'inizio alla fine. E non c'è niente di destino in tutto ciò. Ryo, come re di Island, combatterò per portare un nuovo ordine in questa terra. Addio, Ryo, Nanami. Aspettate, aspettate, può ancora essere come una volta. Possiamo ancora essere insieme. Per favore. Per proteggere il re, non posso lasciarvi passare di qui. No, 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 no! La parte di questa scena che vorrei voi teneste a mente in ottica di Suicoden III è la lealtà di... La lealtà barra preoccupazione di Luciano in confronto di Joey. Oh, è andato. Perché? Perché? Torniamo, Ryo. E torniamo. Allora, adesso per proseguire mi sa che dovevamo tornare qui... Non sono sicuro al 100%. Era... Sì, era questo che dovevo fare. Ryo, i preparativi sono finiti. Possiamo partire in qualsiasi momento. Ryo, i preparativi sono finiti. Ok, andiamo. Molto bene, andiamo. Ok, prendiamoli. Eeeh, battaglia strategica, lo vedo in news. Mi pare di essere mancato per anni. E' strano che non ci sia resistenza nemica. Non abbassiamo la guardia. Conto su di voi, Lady Lucia. Mio re, sulla mia spada, laveremo l'onta della sconfitta. Ascoltate tutti, ricordate il giuramento del guerriero. La nostra sopravvivenza ne dipende. Attacco, nel nome dei Karaya. Non dobbiamo perdere. I Karaya mi saranno molto più simpatici in sui Kaden 3. Secondo in due mi stanno abbastanza sul cazzo. Comunque, questa è una di quelle battaglie in cui in realtà potete fare molto, molto poco. qui che sei, 11, 7, 12, no, tu ti sposti di qua, tu vieni qui davanti, tu ti metti qui dietro, e vorrei gentilmente poter far avanzare l'unità di Luke in seconda linea, e niente, per ora può fermare così, fino a svolta. Tanto, ripeto, non abbiamo davvero molto da fare in questa battaglia, dobbiamo soltanto far passare un numero di turni sufficienti a far scappare in realtà l'esercito di Kaden. Ok, ora, tu ti sposti, tu ti sposti, tu chi sei, Luke, tu chi sei, ma d'attacco 9, difesa 3, ok, su no, spostiamo te di qua. Ok, tu ti puoi spostare qui davanti, e può bastare così per il momento. In caso che non abbiate, state capendo quello che sto facendo, sto semplicemente portando quelli che attaccano a distanza, in seconda linea, facendogli scudo con cavalleria e fanteria, niente di trascendentale, senza sé. Così. Aspetta. Oh, giusto, posso attaccare. Era esattamente questo il motivo per cui lo stavo facendo. Uhuh, bel colpo, Luke. Bel colpo davvero. Poi, possiamo prendere te, ti mettiamo qui, te, ti mettiamo qui. Per noi dovresti avere l'abilità bombarda. Andiamo ad uccidere questo. Se ci riusciamo. Ci riusciamo. Attendi, tu hai bombarda per caso anche no, 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 lo esploratore. Ok, tu ti rimettiamo qui, così puoi curare fondamentalmente tutto quanto l'esercito. Eeeh, niente, penso che abbassi così, sinceramente. Stima suolta. Per gioco, i preparativi sono completi. Possiamo ritirarci subito. Non ancora. Dare il segnale alla compagnia di Lady Lucia di ritirarsi. Non perdiamo l'occasione di vincere. L'armata dei popoli di frontiera colpirà prima. Se possiamo guadagnare tempo... Presto dai il segnale. Per la vittoria finale non dobbiamo sacrificare molto per aver poco. Vedi, Lucia lo capisce. Hai ragione. Ritiriamoci. Cosa da tenere a mente per poi dare un senso alle mie speculazioni su sui Coden III? Joey sembra preoccupato per quello che succederà a Lucia. Capito. Quando Dante la Royal Army si ritira. Lo so, costerebbe guadagnare un po' di tempo. Una volta ti pensavo bella e scema, ma ora vedo che hai la forza di tuo padre. Ti seguirò dovunque. Infilati, è molto più carina il sui Coden III che il sui Coden II. Comunque ascoltate, non possiamo morire. Per il futuro di Karaya! Adesso possiamo cominciare ad accerchiare per benino i nostri avversari. Stessa cosa si può fare di qua. Cazzo che botta. Giorgio, da te non mi aspettavo una stronzata così, sinceramente. Le ho detto proprio papale papale. Perché i miei soldati stanno facendo così schifo? Oh, 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 Teresa. Oh, Teresa. Brava, Teresa. Oh, bravo, Luke. Ti faccio i miei complimenti. No, 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 no. Chi va? Così non va. Così, fila, no, così non va. Me non è felice. Ok, può bastare. Ouch! Ouch! Non morire. C'è Max, non morire. Tu da qui puoi attaccare gli occhi unici. Ok, bene, allora posso prendere te, spostarti qui e usare questo bello scudo lucente per... Non curare il Giorgio, no. Allora, la cosa così non funziona. Devo spostarti indietro. Stiamo indietro te, stiamo indietro te, ok. Te ti sposti qui. Runa, scudo lucente, ok. Poi tu mi attacchi questi. Vediamo se riusciamo a distruggerli per benino. Olè! Luke è improvvisamente diventato un mostro. Portiamo te avanti. Attacca. Chi va? Chi va, Cristo santo! Comunque, continuiamo a circondare Lucia. Tocca. Tocca. Arcieri. E zero, eh? Ok. Spostiamo giù di qua. Eh, sono un idiota. Perché l'ho fatto attendere? Maledizione. Miglio di fuoco, ovviamente non... No, no. Attendi. E... Ma, vai Max, dai. Anzi, cosa hai di rune? Abilità cavalli. Ok. Non c'è proprio una cosa che non ce ne potete fregar di meno. Allora, tu vieni qui e attacchi. Sul serio? Uno solo e tu dovresti essere il mago più potente del gioco? Mi stai prendendo per il culo? Vabbè. Maglia di fulmine. Forza. Grazie. Per il futuro dei Karaia! E di Lucia, ce ne occupiamo noi. Lei fugga! Becum, mi dispiace. Sto pensando adesso, se c'è un personaggio che si chiama Becum, in sui Codentria potrebbe essere... Però che ci penso? Non ne sono sicuro al 100%, però la che ci penso potrebbe essere... Eh 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 eh, se ne sono scappati COM la coda tra le gambe. Davvero? C'è qualcosa di strano. Penso che tu abbia ragione. Anche tu ti preoccupi, eh Klaus? Bene, entriamo a Muse e diamo un'occhiata. Attenzione, ci possono ancora essere dei soldati di Highland attorno. Lo so. Victor, convoglio se unisce al gruppo. No no, Victor se unisce al gruppo. Poteva finire lì, senza convoglio. Cambio della formazione? Sì. Perché no? Ehm, così? Mhm. Chi altri mi potrei portare dietro? Mi posso portare Flick. Dammi, mi posso portare Flick. Flick, grazie, dammi Flick. Smergo qui al centro. Flick poi qui. Tu qui, a posto. E così entriamo dentro Muse. Pronti nella prossima puntata a scoprire in che modo Joey non permetterà a Luca Blight di fare tutto quello che vuole con lo Stato. Perché lui vuole una nazione forte e indipendente. Vuole una nazione che non distrugga inutilmente le vite umane. Joey è buono dentro. Sì, lo scopriremo nella prossima puntata. Sì. Sì. Sì.